Flora quanti bei cappelli che ci sono qua dentro, strani però no? Cappelli originali. Le fanno proprio delle richieste specifiche sul cappello? Sì, vuoi sapere più di amodista, di quella che lavora. E quanti anni hai che fa cappelli lei? Io andavo a scuola la mattina e pomeriggio andavo da mia zia, avevo 9 anni, sono stato 2 anni tra mia zia e dopo la cosa è impiantata perché era gelosa di me, mi insegnava. E' già brava a 9 anni. E mi ha accattato su un'altra parte. E com'era Padova? Tutte le persone raffinate, il fine. E adesso il cappello va un po' meno? Adesso c'è naso, con tutta questa gente che si è venuta con tutte le romene, c'è naso il cappello. Flora, lei ha 93 anni. Sì, in giugno, al 17 giugno io compio 94. Ha mai pensato come sarebbe stata la sua vita se fosse andata in pensione a 60 anni come tante persone? Io non l'avrei fatto, ero troppo innamorata del mio lavoro, mi voglio essere indipendente e fare i cavoli miei. E questo lo farà sempre? Sempre. Qual è il sogno che ha Flora ancora da realizzare? Io voglio, voglio, desidero di essere Commenda perché mi aspetta per diritto. Commenda cosa sarebbe? Commenda vuol dire più dell'ufficiale. Ho lavorato tutta la mia vita perché ero innamorata del mio lavoro, però mi piace chiudere anche in bellezza, capito? Con questo attestato. Attestato, bravo, la parola attestato se giusto. Perché mi dico solo da pagare tasse, tasse che mi ha fatto? Tante tasse. Sempre un parola. In attesa dell'attestato di Commenda. Certo, e anche a prossimo che ha da essere, anche a non aspettare tanto perché ormai sto avanti con l'età. Beh, però la vedo in forma. Eh, ma si sa mai, siamo sempre, eh. Grazie e buongiorno mattina. Buongiorno mattina, grazie. Prima non li ha detto mai nessuno, adesso li ha detto tutti. Tutti, perché vedono le interviste. Adesso è una preghessa famosa. Eh, sì, appunto. Caro.